Right Wing GPT, la risposta di destra a OpenAI. Buongiorno e bentornati al Caffettino Podcast, sono Mario Moroni e qui oggi davanti alla macchina del caffè virtuale. Come ogni mattina suggerisco la notizia imperdibile, la notizia del giorno, e cerchiamo in qualche maniera di elaborarla insieme. Oggi parliamo di intelligenza artificiale e della risposta all'intelligenza artificiale di OpenAI, considerata da alcuni troppo di sinistra, arriva l'alternativa di destra. Se avete provato a giocare con OpenAI, con CiaGPT, con GPT-4 e con anche altre intelligenze artificiali, avete scoperto sicuramente che sono molto brave a dire una realtà veritiera, verosimile, ma non oggettiva, non concreta al 100%, proprio perché si basano su tutta una serie di dati costruiti e recuperati nel tempo, ma in qualche maniera cercano di convincerci della bontà della risposta. Secondo alcuni, tra l'altro, questo modello di comportamento tende ad essere un po' troppo liberale, un po' troppo di sinistra, per dirla alla nostra maniera. E quindi si cerca di creare, alcuni hanno cercato di creare, un'intelligenza artificiale più repubblicana, ovvero più di destra. Il ricercatore David Rosado, un ricercatore informatico neo-zalandese che trovate anche su Substack, davidrozzado.substack.com, ha creato un progetto, come dire, sperimentale, per in qualche maniera solleticare il palato di qualcuno che è molto alla ricerca di notizie e di provocazioni, ma anche per far riflettere le persone quanto questi modelli di comportamento e di ragionamento, nonché di esecuzione di testi, sia in qualche maniera limitato, creando un'alternativa all'intelligenza artificiale cosiddetta di sinistra e creando un modello di comportamento e di esecuzione veramente diametralmente opposto. Il progetto di Rosado è molto interessante, soprattutto perché non è stato creato da militanti di destra, ma per mettere in guardia tutti, come spesso facciamo qui nel caffettino podcast, sui rischi dell'AI. Ed è stato un progetto, lo potete trovare sul suo sito davidrosado.substack.com, non è ancora in distribuzione e credo che non lo sarà, è solo un esperimento. È stato progettato per sostenere alcune tipologie in maniera specifica di punti di vista diametralmente opposti, la famiglia tradizionale, valori e moralità cristiane, opposizione e legalizzazione di droghe, insomma tutto quello che è l'opposto. Molto interessante questo esperimento. Anche in questo caso set di dati automatizzati e addestrati usando metodi manuali, come in parte è OpenAI, andatevi a vedere lo scoop della CNN sul Kenya, e anche automatizzati, quindi recuperati online. Questo esempio ci fa capire quanto sia importante prevedere non un blocco, non uno stop come dicono alcuni, ma una visione molto fresca, molto lucida, molto oggettiva su quella che è l'intelligenza artificiale, perché presto accadrà che magari avremo una copia stessa di un quotidiano fatta per noi liberal, fatta per noi repubblicani, fatta per noi di destra, di sinistra, fatta in qualsiasi maniera, ma fatta per noi, fatta per orientarci a una polarizzazione, ovvero a un estremo evidente, il nostro. E gli esperimenti come questo ci ricordano anche quanto siamo assolutamente poco pronti al dibattito. È come se fossimo all'interno del mondo fake news, ma 30 anni fa. Ecco, oggi l'intelligenza artificiale e queste tipologie di esperimenti ci fanno capire quanto ancora dobbiamo studiare, dobbiamo vedere questa pratica in maniera molto sperimentale. Questo è il Caffettino Podcast e io sono Mario Moroni, ogni giorno qui davanti alla macchinata del caffè virtuale con voi, 365 puntate l'anno, 7 su 7, per cui anche sabato e domenica. Se vi va, e di non perdere nessuna notifica, canale Telegram, Mario Moroni Canale, oppure attivate la campanellina e mettete segui su Spotify. Noi ci sentiamo domani, come sempre, prima mattina con un bel caffettino. Fate i bravi, buona giornata.